Il rapporto fra il Comune di Bari e il Teatro Petruzzelli all'indomani della sua ricostruzione non è mai stato rose e fiori. Le polemiche non sono mai mancate, così come l'ultima che vede in netta contrapposizione il Consiglio Comunale con l'ente lirico. Muro contro muro sui bilanci, tanto che il contributo che ammonta circa un milione e mezzo di euro del Comune rischia di saltare e di essere devoluto, come qualcuno ha proposto, ad altre attività culturali. Al centro della diatriba le richieste che la Commissione Consigliare Trasparenza ha inviato al commissario Fuortes in relazione all'iter adottato per alcuni bandi e gare d'appalto. A sollevare il polverone è stato il consigliere comunale di Italia dei Valori, Angelo Tomasicchio, il quale, sempre attraverso la Commissione, nei mesi scorsi aveva richiesto gli atti relativi ad alcuni bandi di gara in particolare a quello semestrale, relativo all'affidamento del servizio di custodia e di guardiania del teatro. Fuortes, per tutta risposta, ha opposto un netto rifiuto, liquidando velocemente la questione non considerando la richiesta un preciso obbligo. È grave, sempre secondo Tomasicchio, che pur in presenza di un parere espresso dalla Commissione Governativa su una vicenda analoga che aveva coinvolto l'Arena di Verona, si è sistematicamente negato l'accesso agli atti da parte della Fondazione, considerando che il Comune di Bari è uno dei soci fondatori. Di qui la nuova richiesta di documenti. Ma la polemica non si ferma qui, poiché si chiede di far piena luce anche sugli hotel e la sonnambula, sugli incarichi affidati, su opere spacciate come nuovi allestimenti, su licenziamenti ingiustificati e sull'uso privato del parcheggio interno da parte dei dipendenti.